Porca miseria, non è ancora arrivato. Ma chi? Il sole? Eh? Il sole? Ma che sole? E chi? Meteorite, no? Ma quale meteorite? Ah, vabbè, ma allora non leggi i giornali. No. Meteorite che deve arrivare. Qui? No, qui. Qui. Sulla terra, no? Beh, allora andiamo al mare. Senti, sai dove devi andare, tu dove devi andare, affanculo. Ma scherzavo, stavo scherzando. Gianni, Franco, dove andate? Si ride. Ma a proposito, ma lo sai che con tutto il problema che abbiamo, che stiamo passando adesso, se arrivasse il meteorite forse, hai visto mai che fosse una soluzione buona?